Lo sfogo che c'è stata la settimana scorsa nasce semplicemente dal fatto che per due settimane consecutive, aprendo la rassegna stampa, un giorno mi è capitato di leggere che il direttore generale del Frosinone ha dichiarato che c'era un segreto oscuro e che gli portava a dire che a fine anno avrebbe avuto la soddisfazione di andare in Serie B diretta lasciando le frasi poco svelate. E con Ramarico ho notato che in quella occasione nessuno ha preso nessun tipo di posizione, nessuno ha parlato. La settimana successiva, sempre riaprendo la rassegna stampa, leggo che è un giocatore della Paganese, il titolo dei giocatori del Frosinone sono stati scorretti, volevano vincere facile, ma penso che la domanda che mi sono posta io, magari se la sono posta tutte le persone che hanno letto questa notizia. Il Ramarico viene dal fatto che non è stato risposto, non c'è stato nessun intervento della Lega Pro, di fronte a queste due dichiarazioni delle affermazioni, c'è stato in merito alle mie dichiarazioni, dicendo tra l'altro delle inesattezze, perché per quanto riguarda la partita Frosinone-Lecce, noi abbiamo fatto quello che il regolamento ci può fare, ovvero denunciare alla Procura federale i comportamenti poco consoli, oppure la frase che ha riportato Diniz subito dopo la fine della partita, anche perché se non l'avessimo fatto saremmo stati denunciabili per omesse denunce, quindi i regolamenti c'è il posto di fare quello che noi abbiamo fatto e la dimostrazione è che due giorni dopo la notte ufficiale della Lega Pro è venuta nella giornata di sabato la Procura federale interrogare Iniz riguardo appunto quelle affermazioni, quindi più che ne sposto c'è stata una denuncia agli organi competenti, in cui il calcio ha perso credibilità e noi alleggi insomma, ne siamo un esempio platante, anche perché noi siamo retrocessi di due categorie per una, a quanto pare una tentata con Min, tentata con Min possono essere tante cose, quindi come è stato giusto che magari che noi siamo retrocessi, giusto perché siamo retrocessi solo noi, però come abbiamo accettato di buon grado questa retrocessione, insomma vorremmo che si continuasse a vigilare.